Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è il loro scopo settimanale dal 15 al 21 aprile, prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente, magari segno luna e venere per avere qualche indicazione in più, se cliccate in alto a destra vedrete le recensioni di mazzi che utilizzo nella stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana, inoltre trovate il link per prenotare il consulto o chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello lunare motivazionale. Adesso andiamo a vedere le prime indicazioni, abbiamo questa bellissima carta dell'albero, dell'albero che è sviluppo e crescita, è un'attenta analisi non solo di tutte le vostre varie faccende, ma anche la possibilità di ritrovare la forza, l'energia e la vitalità per risolvere tutto, sia questioni trascurate, lasciate un po' sospese o anche cercare appunto di avviare una nuova fase di crescita. Questa carta potrebbe essere proprio legata alla vostra energia, cioè alla costanza, all'impegno, a voler risolvere nel miglior modo possibile alcune cose, quindi è fiducia e fedeltà soprattutto nelle vostre idee e in voi stessi. Altre volte potrebbe essere una persona in particolare, quindi l'energia di questa persona qui, che vi può aiutare e darvi il suo sostegno, la sua fiducia in qualche modo e vi può essere utile in un ambito della vostra vita. A volte è proprio la carta che si riferisce alle persone più strette e agli amici e alle amiche. Vediamo cos'altro vi vogliono dire. Allora, potrebbe esserci una situazione che non ancora è ben chiara, non ben sviluppata, ancora un po' incerta, oppure a volte può trattarsi di qualcuno presente nella vostra vita che ha un atteggiamento un po' troppo particolare. Non voglio dire lo squestrano, è vero che dipende da quello che si sta vivendo. Allora, se è una fase critica oppure è una persona che è eccessivamente pesante e critica nei vostri confronti, però qui si vede che la sua influenza è messa da parte, si lascia andare anche riguardo a una situazione specifica, si vede proprio che c'è questa nuova fase di crescita quindi o sviluppa totalmente, nel senso che riuscite a muovervi con pazienza, prudenza che vi darà proprio questi buoni frutti e quindi ci sarà questo nuovo sviluppo per voi in tutte le questioni che vi stanno a cuore. Quando c'è la carta del cuore, lo dico sempre, lo sottolineo, non riguarda solo le questioni amorose e affettive, però riguarda tutte le questioni dove noi ci mettiamo impegno, dedizione, passione e quindi può essere anche il lavoro e alcune faccende che ci stanno particolarmente a cuore. Quindi in tutto questo, ecco, nuova fase di crescita, di sviluppo, nuova energia e anche nuove situazioni, questo sì, ma più che altro la risoluzione, la sistemazione di alcune cose del passato e che sono state trascurate. I segni da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di terra, torovergine e capricorno, un pochetto, pochetto anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. Gli altri che non ho detto non è che non avrete a che fare, che più o meno le cose sono già, come sapete, e quindi sapete appunto che cosa aspettarvi. Vediamo l'ambito amore per chi è in coppia, poi vedremo i single e poi vedremo il lavoro. Pensieri, fedeltà e bambino. Carte proprio perfette, si può dire, nonostante qualche pensierino, qualche pensierino può riguardare tantissime cose, effettivamente. Quindi magari c'è qualche preoccupazione, c'è qualcosa che state valutando, ma come vi dico non è una carta negativa. Cioè è negativa solo nelle questioni un po' più difficili, cioè se c'è diffidenza, se ci sono dei dubbi, delle perplessità sull'atteggiamento dell'altra persona. Però in linea di massima, nell'energia abbastanza positiva, nel senso che nonostante ci dovesse essere qualcosa, comunque c'è una ripresa, un miglioramento, più complicità, più gentilezza, armonia, più cura e attenzione. In pratica, e lo vediamo proprio da queste carte qui. E che possono addirittura sviluppare qualche novità. La carta del bambino, ovviamente lo dico in senso molto molto generale, a volte può voler dire, voler ampliare la famiglia, questo è vero. Altre volte spesso, può voler dire, proprio nuovi, nuovi sviluppi, più collaborazione, nuovi sviluppi nel senso fare dei cambiamenti a livello anche personale, a livello di coppia, darsi più spazio, nuovi progetti per il futuro. Quindi ci possono essere tutte queste belle situazioni. Vediamo adesso per i single. Donna maritata, abbiamo prigione e vecchia signora. Per i single ci possono essere ancora delle vecchie questioni in corso, questioni che possono riguardare sia relazioni precedenti oppure delle questioni a livello personale che in un certo senso si riflettono nella vostra vita, anche sentimentale. Perché quando si devono affrontare, purtroppo, delle questioni importanti, vengono meno le energie e anche la voglia magari di mettersi in gioco o di cercare di cambiare qualcosa della propria vita sentimentale. Se il vostro caso dipende che cosa state affrontando, perché se ci sono magari entrambe addirittura, se c'è anche una fase di guarigione. Perché spesso la carta della prigione potrebbe essere anche qualcosa di auto-inflitto. E cioè che avete bisogno di riflettere, di rigenerarvi, di essere un po' bloccati e chiusi in voi stessi. E allora se dovete metabolizzare qualcosa del passato o se dovete sistemare ancora qualcosa del presente, quindi ecco c'è ancora un'energia di questo tipo. Quindi non è che vuol dire che non ci sarà niente, non ci saranno novità. Forse almeno per questa settimana non ci sono quegli sviluppi interessanti da portarvi, grossi cambiamenti. Vediamo adesso per tutte le questioni più pratiche del lavoro e della vita materiale in genere. Abbiamo allegrezza, dispiacere e fortuna, carte proprio abbastanza altalenanti. Quindi in linea di massima, essendo predominanti quelle positive, il dispiacere potrebbe essere solo qualcosa di passaggio. Cioè o un ottenimento, un risultato positivo però che riuscirete a conseguire dopo tanta fatica e quindi una lotta dura che appunto però sarà vittoriosa per voi. Oppure ci sono dei blocchi, delle resistenze, delle cose che dovete fare in questo periodo, nell'arco della settimana e le vostre azioni potrebbero essere limitate. A volte magari ci sono solo degli ostacoli, dei problemucci che uno purtroppo nella vita di tutti i giorni può avere. Può essere un contrattempo, può essere una persona che magari stiamo chiedendo informazioni o qualcosa e ci sono ritardi e non risponde. E insomma tutte queste cose qua. A livello lavorativo forse qualche critica, forse qualche atteggiamento un po' particolare nei vostri confronti. E' una cosa sicuramente di poco conto che dovete lasciare proprio totalmente andare perché come vedete ci sono carte di allegrezza, di soddisfazione, di fortuna addirittura. Quindi le cose vanno a migliorare e soprattutto a risolversi. Poi la fortuna è bella perché magari soprattutto chi è in cerca di lavoro oppure chi vuole fare grandi grandi cambiamenti nella propria vita lavorativa è la volontà di conseguire un successo, una nuova speranza, un nuovo percorso di magari ampliare la vostra ricerca. Quindi cercate voi di capire effettivamente che se alcune cose non procedono nel verso giusto potrebbe esserci qualche nuova occasione che salta così fuori all'improvviso di inaspettato. O comunque magari dovreste essere voi che mettete in moto delle nuove energie come abbiamo visto sin dall'inizio proprio per apportare dei grandi grandi cambiamenti che vi saranno utili successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile, quello lunare e quindicinale. Alla prossima vi auguro una buona settimana, ciao!